Un connubio tra ricerca storica e attualità, tra realtà e immaginazione, tra percorsi di studio tra loro differenti, ma capaci insieme di regalare all'ente di formazione Irigem di Rosà il primo premio tra le scuole superiori di tutto il Veneto nel concorso indetto dalla Regione sul tema Il Minite non più ignoto. Un progetto, quello premiato in occasione dell'evento conclusivo delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, intitolato La Bete dell'Emerle e realizzato durante lo scorso anno scolastico. È nato da una provocazione lanciata alle ragazze di terza conciatura e ai ragazzi di seconda multimediale e sono stati invitati a studiare la storia con un'ottica diversa. Hanno lavorato assieme, si sono confrontate e poi è nata l'idea di questo racconto, di questo albero che racconta una storia e da lì insomma è iniziato tutto. Una storia vera, quella del ritrovamento dei resti di un soldato italiano e di un austriaco sul Monte L'Emerle e che è arrivata in classe grazie alla collaborazione con l'Associazione Nazionale Fanti che da ragazzi di Irigem ha imparato una preziosa lezione. Ci hanno fatto capire come le nuove generazioni credano nella testimonianza e anche nella conoscenza della storia. Oggi, nella suggestiva cornice di Villa Contarini di Piazzala sul Brenta, la cerimonia di premiazione alla presenza dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzano. La nostra scuola della formazione professionale, che è parte integrante del nostro sistema educativo, ha dimostrato di avere sensibilità, capacità, conoscenza e competenze. Questi sono i dati tecnici su cui vengono valutati i concorsi. In più, la nostra scuola del Bassanese, forse perché è così vicina al Monte Grappa, forse perché è la scuola dei Bassanesi e di Bassano del Grappa, ha dimostrato di avere una sensibilità veramente straordinaria. Io sono veramente contenta che abbia vinto.